Sì, una edizione che quest'anno si svilupperà in due giornate, sabato 7 e domenica 8 e che raddoppia perché ci sarà la festa della mamma, tantissime sono le mamme che quest'anno si sono iscritte, le giovani e le donne in generale. Una manifestazione che si riempie di grandissimi contenuti con uno sfondo sociale davvero molto importante, ci auguriamo che tanti saranno i fondi raccolti per l'associazione Cometa e Art for Sport e quindi anche tutto il comune di Padova con l'assessore al sociale Vera Sodra, del centramento Marina Buffoni, l'assessore allo sport Cinzia Rampazzo, la presidente del consiglio comunale Federica Pietro Grandi e tutte le consigliere bipartisan che saranno pronte in prima linea per dare il via a questa straordinaria manifestazione, una chiazza rosa che riempirà di entusiasmo, di voglia di vivere l'intero prato della valle e che girerà per 8 chilometri lungo le vie cittadine, sullo sfondo tanti negozi che abbelliranno le vie e le proprie vetrine e quindi tanti messaggi positivi di voglia di esserci, di voglia di vivere la nostra città all'insegna davvero dell'entusiasmo e della positività. Per dare voce oggi chi questa voce per troppo tempo non ce l'ha avuta e quindi far emergere una popolazione silente ma esistente, più forte più che mai, data appunto da quella parte femminile della nostra società che nel quotidiano ogni giorno si impegna suddividendosi tra mille ruoli a cui però non manca mai il sorriso e l'entusiasmo di affrontare questa vita a volte così difficile. Tante saranno le mamme dell'associazione Cometa, tante saranno le ragazze di Art for Sport che nonostante appunto le difficoltà anche fisiche oltre a quelle che comunque la nostra società oggi ci porta a dover vivere, sono pronte a dare un messaggio di speranza e di fiducia e soprattutto di ottimismo con la voglia e il coraggio proprio di costruirsi un futuro, un percorso di vita migliore. Questo è quello che Padova chiede a gran voce, questo è quello che attraverso la Pink Run i cento straordinari volontari si riuscirà a concretizzare. Quindi non ci resta che darci una rivederci a domenica a partire dalle ore 18 pronti per la più bella staffetta rosa femminile con tantissime Pink Runners.